Primo vero esodo estivo, weekend da Bollino Rosso in Campania su strade e autostrade prese d'assalto dai vacanzieri. Nonostante l'ANAS abbia rimosso in tutta Italia ben 500 cantieri per offrire spostamenti più confortevoli e sicuri. Traffico intenso nelle giornate di sabato e domenica, migliaia i campani che si stanno dirigendo verso le località di mare. Per chi resta in città il caldo non dà tregua, ancora temperature sopra la media che i cittadini combattono rifugiandosi in parchi e sul lungomare. Le temperature sono abbastanza consistenti per il caldo, al lungomare c'è una ventilazione bellissima perché c'è sempre la brezza, è anche un fatto mentale il caldo perché parecchia gente fa caldo, fa caldo e si carica. Un po' che fresco, è un caldo fresco, un fresco caldo. No, no, si sta benissimo, è fresco con la brezza del mare, vedendo l'infinito. Quando vado in bicicletta sto meglio che quando non ci vado perché mi ossigeno. C'è chi cerca refrigerio in spiaggia. Freschi freschi si sta, benissimo. Sarebbe bene venire alle sette di mattina perché ha tempo. C'è il mare e anche la compagnia che uno dice una parola, queste cose qua. Bisogna innanzitutto vedere un po' l'alimentazione. Andare nelle zone d'ombra, là dove si trovano. No, siamo una popa a mare, i romani a mare. Fino i quattro devi stare a mare, arriva a mare, bagnato, se no non lo puoi combattere.